Grazie Grazie Buonasera Il posto dove stiamo è magnifico Siamo nel giardino di Villa Romano Qui a Mortora Sì È un giardino Pieno di fascino Proprio l'ideale Per questa serata Dedicata a Rossini Un omaggio a Rossini E il professore Ferrigno Che si sottrae sempre Alle nostre chiacchierate Si si sottrae Però non possiamo negare Che il professore è Una personalità In un chema di storia Di cultura del nostro territorio E non solo E lo dimostra appunto Questa serata Questo incontro di stasera Ci aspettiamo tante belle emozioni Abbiamo tanti Tanti interventi Con musiche davvero belle Quindi Non ci resta che augurarci Buona serata Buona serata Buona serata Di classe Grazie a tutti.